ci sono tutta una serie di esempi, vedete in document poi ritroviamo di nuovo di fatto quel catalogo diviso per sezioni e qui mi porto addirittura, qui troviamo la sezione sheet metal eccola, esporta praticamente lo sviluppo piano dalla parte, addirittura guardate che macro davvero davvero interessante cioè esporta gli sviluppi da una parte o da un assieme, quindi se avete un assieme che contiene decine se non centinaia di parti in lamiera lui automaticamente rileva le parti in lamiera e vi crea lo sviluppo e ve lo salva in DXF anzi andiamola a vedere questa, davvero interessante, eccola guardate poi alcune macro riportano anche un video dove vi mostra come sfruttarle al meglio ok, ecco perché questa è una risorsa importantissima per chi vuole lavorare con le macro, mi raccomando molto spesso, guardate qui, cioè qui se vado effettivamente ad espandere ce ne sono praticamente centinaia di macro qui dentro quindi mi raccomando qualunque progettista prima di mettersi lì a scrivere una macro deve andare su Codestack e andare a vedere se effettivamente quella macro è già stata scritta da qualcuno o magari vi potete prendere parte del codice, aggiungete voi altro codice e avete chiuso la macro non dovete partire da zero e quindi qua vediamo un po' di essere concreti come mi devo comportare? mettiamo il caso, ecco questa è la macro che fa per me allora sappiate che giù in fondo dopo chiaramente una parte descrittiva loro vi propongono tutto il codice Visual Basic eccolo, eccolo qua me ne rendo conto perché vedete quanto è lungo eccolo qua, questo è tutto il codice guardate il codice che è stato scritto per poter generare in automatico lo sviluppo piano e salvarlo in DXF da parti assieme guardate quanto codice eccolo qui, ora torno su perché qui nulla di più semplice nel senso che l'ha già scritto qualcuno io qui che faccio? mi porto su questo pulsante copia eccolo poi cosa faccio qui? mi porto su Solidworks questa la chiudo a questo punto strumenti macro cosa faccio io? mi vado a creare una nuova macro la vado subito a salvare vediamo un po' genera DXF sviluppo ok allora questa la vado a salvare qui dentro salva e vedete non fa altro che giustamente aprirmi chiaramente una finestra vuota e qui non devo fare altro che eliminare le righe di codice presenti e incollare tutto il codice eccolo infatti vedete qui riporta anche il fatto che è una macro presente in in code stack e ci dà anche il link diretto basta a questo punto io salvo salvo questa macro benissimo chiudo e vediamo un po' andiamo ad aprire la testiamo eccola abbiamo questa parte che prima abbiamo convertito nella versione solidworks 2020 beh a questo punto l'andiamo a testare quindi esegui una macro genera DXF con sviluppo apri vediamo un po' che succede ecco che sta lavorando in background eccolo ha finito già vedete c'è anche un feedback quindi chi ha scritto questa macro ha inserito anche del codice per restituire giustamente ha fatto bene un feedback al termine dell'operazione ok a questo punto se vado nella cartella guardate un po' vado a zoomare un pochino ha aggiunto in automatico quindi c'è anche un'istruzione all'interno della macro per creare una cartella DXF poi chiaramente a livello di codice possiamo anche decidere di creare questa cartella in una posizione differente del nostro del nostro computer se entro dentro eccola qui vedete la è andato anche a nominarla in questo modo io questo lo vado ad aprire così visiono eccolo qui ecco cosa troviamo all'interno di fatto lo sviluppo nel formato DXF e vedete in questa macro sono state impostate le proprietà della funzione per generare il DXF direttamente nel file di parte o di assieme portando fuori la sagoma e le linee di piega come state vedendo grazie a tutti